Si è conclusa la prima parte dell'intervento di messa in sicurezza e restauro dell'archivio del gioielliere Costantino Bulgari donato alcuni anni fa all'Università di Siena, Dipartimento di Arezzo, dalla figlia Anna Bulgari Carissoni. Contiene la ricerca di anni e anni di Costantino Bulgari sull'argentiere e l'argenteria antica. Quando dico antica si va dall'inizio del 600 fino all'800 e quindi sono tutti documenti, fotografie di oggetti di argenteria soprattutto italiana ma anche straniera perché ad esempio abbiamo tutta una parte relativa a Malta. Si è trattato sostanzialmente di una messa in sicurezza e riordino dell'archivio, quindi una sostituzione dei precedenti contenitori con dei nuovi che garantiscono una maggior sicurezza, quindi un ambiente chimico-fisico più stabile per la conservazione dei beni conservati e per la fruizione del pubblico, quindi favorisce la consultazione degli studiosi che vogliono consultare appunto i documenti interni. Il restauro è stato reso possibile anche grazie all'intervento di Quadrifoglio, Mariella Betoneri e Giovanni Raspini. Lei ha donato la parte della Toscana? Ebbene, era quasi automatico, non poteva rimanere questo archivio incompleto della parte che era stata regalata da Anna Bulgari a me 15 anni fa e siamo felici che sia stato riunito con quello che Anna Bulgari ha donato all'università qui ad Arezzo. La parte più divertente e interessante sono i disegni. I disegni venivano fatti perché ci voleva troppo tempo per stampare le fotografie e avevano dei disegnatori eccezionali che erano quelli che disegnavano i gioielli di Bulgari e quindi quando un oggetto veniva portato in via Condotti, Costantino Bulgari chiamava un disegnatore, in un'ora veniva fatto questo meraviglioso disegno e poi l'oggetto, il proprietario, se lo riportava via. La parte più divertente è proprio quella dei disegni secondo me. Come può essere utile oggi e come può essere fruito? L'archivio innanzitutto è completamente digitalizzato, quindi si trova tutto online e come qualsiasi archivio è chiaramente utile per qualsiasi persona che voglia studiare l'orificeria e l'argenteria antica ma anche qualsiasi persona che magari ha un oggetto con un bollo, un marchio che non riconosce può tranquillamente rivolgersi all'archivio e molto probabilmente nella maggioranza dei casi si scioglie questo bollo.